Ciao Francesco. Ciao Claudio. Senti una cosa, avviene un infortunio grave sopra i 40 giorni, arriva l'ASL insieme ai carabinieri, fanno rilevi fotografici, sit e tutto il resto. Parte un procedimento che si chiama 758, con cui l'ASL dice, prescrive che modifiche fare. Ci spieghi cosa vuol dire? Allora il procedimento 758 innanzitutto è un procedimento che prevede la possibilità per l'ASL di impartire una prescrizione a fronte della quale, nel momento in cui il contraventore adempia, si può essere ammessa al pagamento dell'oblazione e all'estinzione del reato. Però se io faccio esattamente quello che dice l'ASL magari non va bene. Ecco questo è un tema di strategia processuale che secondo me va sempre valutato, nel senso che a volte c'è la sensazione o la percezione che se io non faccio esattamente quello che mi dice l'ASL non vada bene. In realtà non è esattamente così, nel senso che io con l'organo di controllo, io diciamo contraventore, io dattore di lavoro dell'azienda, posso andare anche a proporre delle modalità alternative rispetto alla prescrizione che mi viene impartita. Perché lo scopo dell'ASL è che non succeda più incidente e non si faccia male nessuno. E mettere in sicurezza la macchina, l'impianto, l'attrezzatura e quindi se io dattore di lavoro sono bravo nel proporre un metodo alternativo rispetto a quello che mi ha proposto l'ASL perché magari non sono d'accordo con quello che loro mi contestano, io lo posso proporre e posso adempiere in una maniera alternativa che mi dà esattamente lo stesso risultato e quindi mi consente l'estinzione del reato. Quindi mi consente l'estinzione del reato, continuare a lavorare bene in modo efficace perché magari l'altro modo mi impediva di lavorare e poi in dibattimento dire sì però io l'ho risolto in quest'altro modo. Io l'ho risolto in maniera alternativa e quindi evito per esempio uno dei rischi che viene spesso tenuto in considerazione quando io ho una prescrizione è io non vorrei adempiere però ho paura che per esempio la procura mi imponga un sequestro del macchinario che io sto utilizzando. In questa maniera io propongo un metodo alternativo ma allo stesso tempo ottengo il risultato di poter continuare ad usare il macchinario ed estingo il reato. Grazie mille. Grazie a te. Ciao a tutti.